In attesa che si sblocchi in via definitiva la cessione di Gianluca Lapadula, il Pescara compie i primi concreti passi sul fronte delle entrate. Quella di ieri è stata una giornata fondamentale per l'arrivo in rival adriatico di Brian Cristante. Da alimare gli ultimissimi dettagli, ma ci siamo. Classe 95, Scuola Milan, due anni fa Cristante è stato ceduto a titolo definitivo al Benfica. Lo scorso gennaio è arrivato in prestito al Palermo, dove però ha giocato appena quattro partite. Pescara potrebbe essere un trampolino di lancio importante per un calciatore considerato un grande prospetto. Può giocare centrale di centrocampo o mezzala, sembra il profilo ideale per la mediana di Massimo Oddo. Per lo stesso reparto nelle ultime ore si è scaldata una pista importante, quella che porta al 36enne Stefano Mauri della Lazio. L'esperto centrocampista col vizio del gol, già compagno di squadra nella capitale di Massimo Oddo, è in scadenza e in caso di mancato rinnovo col club di Lotito potrebbe accettare il biennale proposto dal Pescara. In difesa i biancazzurri sono a caccia di un centrale che dia ulteriore spessore alla retroguardia. Il nome più caldo è quello di Arlinda Ageti, che ha disputato un buon europeo con la sua Albania insieme al capitano biancazzurro Memushai. Cresciuto in Svizzera nel Basilea, il giocatore è in scadenza col Frosinone, dove sarebbe rimasto solo in caso di salvezza in Serie A. Sempre dall'Europeo spunto un nome alternativo ad Ageti. Si tratta del difensore della Slovacchia Norbert Gjomber, ex Catania, e appena riscattato dalla Roma. Il giocatore ottiene il pieno gradimento di Oddo. Novità nelle prossime ore si attendono per il difensore laterale Cristiano Biraghi, di proprietà dell'Inter, e sul fronte portiere. Oddo vuole un estremo d'esperienza e tra i nomi il profilo ideale è quello dell'argentino Albano Bizzarri, in scadenza con il Chievo Verona e vicino ai Biancazzurri. Sul fronte attacco si aspetta la decisione di Lapadula. In particolare l'attende il patrone partenopeo De Laurentiis, che ha lanciato l'ultimatum. Sì, nelle prossime 48 ore. Genoa e Sassuolo continuano a sperare, nella volontà del bomber, di avere un posto assicurato per giocare con continuità. I nomi per la sostituzione, detto più volte di Trotta, Monachello e Macheda, interessa il colombiano Harold Presiado, del Deportivo Calì. Ma nelle ultime ore è spuntato un altro nome, quello dell'attaccante argentino classe 88 Matias Suarez, dell'Underlecht, vera e propria macchina da golle assist. La trattativa non è facile, ma il Pescara ci prova.